La città che nessuno racconta è una pagina Facebook nata all'inizio virtualmente ma che da ieri si è costituita anche fisicamente. Nata, Filippo Flocco, per denunciare le problematiche della città di Teramo. Ma no, denunciare poi è una parola che non ci appartiene. È sollecitare magari delle notizie molto piccole della vita di tutti i giorni, che la stampa o comunque la televisione è troppo occupata e presa da altre problematiche. Magari non ti racconta dei sacchetti buttati per strada o dei buchi a terra o anche di cose molto piacevoli, tipo piccole mostre, piccoli vernissage, piccole realtà piacevoli che una città come Teramo ovviamente ha. Ed è stato subito un successo? Sì, inaspettatamente perché è iniziato proprio come un gioco, un gioco voluto da una delle aderenti al gruppo, che ha voluto costituirlo come gruppo, è iniziato subito con una serie di cliccate immediate, 800, 500, 600, dopodiché sono iniziate le aderenze con persone che hanno capito subito lo spirito di questo gruppo. Intanto è un gruppo molto civile, è un gruppo dove non per fare quelli per bene, però si parla bene, si parla correttamente, si parla come si dovrebbe parlare, quindi abbiamo recuperato anche il piacere di una buona conversazione sul web, dove tutti magari sbragano un pochettino, invece no, in questo gruppo si parla in maniera carina, propositiva, con gentilezza, senza toni alti, si muovono delle problematiche, si possono sollevare dei piccoli problemi da sottoporre poi all'attenzione di chi è pagato per risolvere i problemi, perché noi non siamo sostitutivi di un'amministrazione o di un comune o di un ente e devo dire che è stata una piacevole conferma conoscere questi consociati, diciamo questi adenenti gruppo, non uso membri perché si presta a dei doppi sensi, ecco non usiamolo, però è stata veramente una conferma di persone carine, civili e molto motivate, ma soprattutto molto innamorate della propria città e quindi che ci tengono che la città possa tornare ad essere la città che era qualche decennio fa. E' uscito fuori proprio da questo primo incontro l'opportunità di costituirsi in associazione, è stata una delle proposte che è stata fatta solo per avere una realtà più concreta, cioè un gruppo che fa una proposta a un comune per esempio di ripristinare l'antica festa dei trionfi e della pace ha meno appeal che un'associazione culturale che fa questo tipo di proposta. Filippo tu sei un terramano, un terramano che osserva la sua città, che città è quella di Teramo o meglio ancora che città è diventata in questi anni? Ecco questa è una domandona perché con il fatto che io faccio il pendolare ho questo punto di vista un po' di privilegio nel senso che ho dei momenti per raffreddarmi e quindi guardare la città dal di fuori, purtroppo la città non è migliorata, diciamo che negli ultimi anni non è migliorata e è un modo per essere gentile ovviamente, non è migliorata.